Per il gnocco fritto classico, ogni chilo di farina, 120 grammi di grasso dato dallo strutto o anche dal burro, 30 grammi di sale circa, 20 grammi di zucchero e una bustina di lievito. Va fatto un impasto, va lasciato riposare, è tirato, poi va cotto nell'olio di semi o molti lo cuociono anche nello strutto, dipende dal gusto personale.